Sì, ma che abbiamo finito di costruire un nuovo di face in città di Avedere come è tutte le volte parto leggendo con Grisciafi e ragazzi questo dovrebbe essere il primo, scusate, episodio che state vedete durante la giornata nello scorso episodio abbiamo terminato il mondo 3, abbiamo visto l'arena, abbiamo avuto due metanere abbiamo fatto insomma tante cosine e abbiamo cominciato a completare il mondo 4 però male, perché ho perso per strada nel primo livello 2 World of Duty il terzo è quello dei pupazzi di neve porca vacca che fastidio è proprio un fastidio quando succedono queste cose che veramente non ve lo immaginate nemmeno soprattutto quando quelli che non puoi riscattare sono i pinguini con il il berretto perché un pigro doveva portare il berretto comunque ragazzi mi sono saliti di ricordi forse un pupazzo di neve sta qui non l'ho visto no ci avrei giurato però perché mi hanno trovato 3 su 4 potrebbe essere l'ultimo vabbè non è che in ogni caso i nemici in giro per i livelli stanno cominciando a diventare parecchi ma non per niente questo è molto quarto siamo ufficialmente nella seconda parte dei mondi ecco si spoiler i mondi sono 6 ma forse non è proprio uno spoiler perché anche i kibitripo dell'axia ci penseranno 6 mondi questa cosa vabbè prendi qui porta il distributore di lattine bella che ci sono poi di un'altra figurina qua bisogna sempre aumentare la propria collezione finché non l'abbiamo completata allora qui c'era il primo World D poi il secondo World D è quello che avevo ottenuto con l'abilità esploratore ma dai che deficiente ecco dove è il quarto pupazzetto mi sento un idiota bene quindi un World D un World D dove l'ho perso in modo ignota ma sicuramente il World D non è idiota ma sicuramente anche il terzo quando lo rivedrò lo vedrò cazzo come ho fatto non vedrò più wow sto zitta che tengo le occhie dritte dritte per sentire per sentirlo gridare a guavavavavava perchè è così che trovi world D il disco gioco con gli av44 chpackci e ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stupidissima proprio. È per questo che io voglio sempre terminare il livello prodotto attivo, così poi evitiamo di perdere minuti preziosi. Adesso non mi resta che spaccare l'ultimo quazzo di neve. E il gioco è fatto. Perché non è voluto poi in mente prima quello di mettere la scala a fianco e non proprio sotto la scala. Oh, adesso sì che abbiamo completato il livello. Abbiamo perso in questo episodio 10 minuti. 5, anzi scusatemi, non 10. Speriamo di essere più fortunati nel prossimo livello che un obiettivo me lo ricordo, unitarico segreto. Ecco. 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 Insegna concessionaria. Questo luogo apparteneva la personal auto, la Olin, come si legge, una concessionaria della società Olin. Vendeva anche componenti industriali ed è impegnata nel settore dell'infrastruttura edificando palazzi, strade, parchi di divertimento. Ricorda, Olin e qualità. O meglio, lo era un tempo. Volume 1, volume 2, ragazzi stelle erano tanti, basta. Le volume 2, capito che ci stavano da molto tempo in poi. Se mai ragazzi venga voglia di ottenere vari figurini off camera, fa lo screenshot, come facevo nelle serie di Pokémon. Come facevo, squisciottavo le pagine di Pokémon X, che sbloccavo off camera. Allora, abbiamo prima di fare la metropolitana, tesoro, catena di granate e un altro. Combatti, catena di granate, la prova. Ok, entro un minuto e trenta, forse ce la facciamo, forse. Ok, bene, ma ragazzi facciamo con cliente che... Mamma mia, che c'è devasto. Devo chiamarmi con le... Cioè, con la... Dai, che deficiente. Beh, ragazzi, ho già perso, dimenticatemi già il bonus. Quindi, che cosa che fanno le... E piove è saltare, basta. Allora... Quando una bella animazione dell'esplosione, quando la voce strada è più di fila. Le foche... Giustamente tre foche, come finale, le foche lancia granate. Vabbè, ragazzi, per pochi secondi non ho ottenuto il bonus, non ho ottenuto il bonus. Per otto secondi. Sì, per quasi otto secondi. Comunque io considero li vari anche questi. Non mi interessa ben i livelli, ma li considero lo stesso livelli. Esatto, spino e pasticcio. Rotto e lancio, spino e pasticcio alla prova. Mi dà proprio il funghi da lanciare con i tuoi amici. Mamma mia! Vai, conigli per uno, bounce per l'altro. Vai, ora V, Aufi per la torga, Spini per la torga e ancora Spini. Ho vinto, ho vinto. Ok, togliete i galli e ti grazie. No, ho sbagliato, ho sbagliato seriamente. Cioè, ho sbagliato mila di lancio, non ci posso credere. Cioè, le ho lanciate nella direzione sbagliata. Guarda, ancora una volta. Ragazzi, mi sento scemo, un imbecille. Spero di avere comunque il bonus. Secondo me non ce l'ho. Sì, per pochi secondi, ancora una volta. Porca vacca. Che fastidio. Oh, vai, gelo in metropolitano. Ah, proprio un nome stupendo questo. Proprio, mi spira caldo. Soprattutto. Vabbè, io mettego i fuochi. Visto che si fa il freddo, io mettego il fuoco. Tengo io a prendere gli occhi aperti, ragazzi, per il primo obiettivo, ragazzi. Ah! Prevedibile. Qua c'è senzato qualcosa, altrimenti ci sarebbero messi così questi. Ok, c'è una figurina. Dai, non l'ho saltato. Allora, un obiettivo se non ricordo male è a questo, ecco, di salire su un vagone, due vagoni in totale. Lì però c'è il signorino, se c'è la bomba vuol dire che la devo usare per qualche obiettivo. Non mi ricordo qual è uno degli incarichi, però senz'altro servirà questa bomba. Ok, osserva adesso la bomba. Vabbè, io me la tengo. Ah, c'è il mini boss. Forse. Ah, secondo vagone su cui salire intanto. Vai! Mamma mia, ragazzi. Subito, subito, veloce. No, vai, veloce. Oh, perfetto. Mamma mia, ragazzi, tutte le volte all'ultimo. Ok. Chi ci ha quello che ci vuole fare male? Nessuno, perfetto. Grazie per l'abilità del mantello. Ok. La bomba l'ho usata come una figa adesso. Ok, sali su due vagoni. Qui dovrebbe esserci il primo. Sì, uno. Oddio. Non so se per l'ansia di saldare uno. Bonete, bonete. Grazie, grazie, grazie. Allora, c'è sempre una bella giornata quando ti cadono in testa gli accioli dal niente. Di continuo, poi. Allora, qui abbiamo da attivare... Vari interruttori. Teguine. Ecco, poi mi ricordavo che c'è. Ecco. Trovo due passati segreti. Uno. No, aspetta. Questo porta, se ne ricordo male, a una secondaria per salvare un World of Duty, giusto? Sì. Sì, sì, sì. Allora. Grazie. Me ne manca uno. Ok, per la che mi cadesse il coso di ghiaccioli di testa. Che bello. Che bella ansia. Grazie, grazie. Mi mancava proprio l'ansia. Due. Poi, qui c'è il secondo passaggio segreto. Eccolo qua. Che la prima volta, come al solito, non vedi perché. Perché è boh. Forse ho in mente qual è il terzo obiettivo. Aspettate un secondo, eh. No, non è vero. È serviva solamente per fare una roba figa la invincibilità. Mi ricordava forse che c'era un miniboss da parte con... E invece no. Ah, ma edizione a queste mummie. Che sono quando non le guardi e ti rincorrono. Inquietantissime sono. Allora, che ci è un colo. Un bel cono. Chiaro. Allora, non vi ricordo assolutamente quale potrebbe essere l'ultimo incaico. Non ci va in mente. Per nulla. Però qui c'è... Però qui c'è... Che ho fatto? Una bella fontanella. Ma ed ecco li sono fatti tutti quanti, oh. Ah, ecco qual è l'ultimo incaico contro l'interno del container. Ok, ho fatto tutto. Oh, perfetto, perfetto. Anche le tappe rispetto molto alla fisica con i lanci che si... Gli sassi che tirano, eh. Ah, non si può... Ah, non si può... Ah, non si può livellare perché è metallo. Adesso ho capito. Cioè, mi è andata per niente l'initato di bella. Vabbè. Ho una gioia. L'uomo 2 è completato subito al 100%. Meglio. Ho auto, nuova. Alla, tocco gli smarriti, nuovo. World D, imprigionato. Questo è il World D che è stato catturato da quelle terribili bestie. In realtà ce ne sono tanti che... Ce ne sono tanti che aspettano di essere salvati. Ehi, Kibi, senti queste grida di aiuto? Wow, 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 liberatemi! World Dino deve essere proprio qui vicino. Poi, Kibi, esploratore. È ora di un bel lancio di stelle e proiettile. Tiene premute i pulsate per caricare i mirari. Poi rilascia gli spari stellari colpendo l'obiettivo. Caricando l'esposizione sarà più potente. Tesoro trivella matita scava e scatta la via dei recinti. della forni da attactersi interviste. Ma ora è un bel lancio. no che sci... la vacca beh mi sembra di essere me l'ha cavato piuttosto bene no sto per dire per pochissimo ho vinto invece no niente bonus tesoro esploratore nobile gran tira esploratore alla prova va bene esploratore nobile scusate ok niente speravo però non ho finito la bolletta Ah si sono trasformato E vabbè ragazzi quanto lontani ah no ok ci sono i cannoni su quelli più lontani ok ok un corno eh però Forse questa volta ho vinto i bonus ve lo date i bonus si me lo danno oh grazie Forse avrei potuto pure fare di meglio Vai andiamo l'acqua e tempestose e però sarà 25 minuti sapete che vi dico ragazzi fermiamo l'episodio qui nel prossimo episodio che sarà l'ultimo che registri oggi Seppre che non avrebbe fatto male i conti vediamo di terminare questo livello e preferibilmente anche il prossimo che sarà l'ultimo livello normale renbo 24 Abitati Abitati Abitati